Sala al 102% il prezzo del pecorino romano, toccando gli 8,50 euro al chilo. Il latte con cui viene prodotto viene invece pagato 85 centesimi al litro. A guadagnare è dunque solo una parte della filiera, quella della trasformazione. La realtà, sossiene il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, parla di una differenza abissale tra il trend di crescita del pecorino romano e quella del latte. Uno più che raddoppiato, l'altro ferma al 41,7%. Insomma, il prezzo del latte rispetto a quello del pecorino romano è cresciuto a meno della metà. Il costo del latte è infatti aumentato dello 0,36% in meno del romano. La differenza è di circa 100 milioni di euro a sfavore delle tasche dei pastori, che, con il prezzo del latte crollato a 60 centesimi durante la scorsa annata, hanno pagato 130 milioni di 150 persì con il crollo del prezzo del pecorino romano. Con una crescita così repentina del 102% del prezzo del romano in 5 mesi, si rischia che qualcuno ci speculi, sottolinea Luca Saba, scaricando i costi sui pastori. In questa situazione ci preoccupa il silenzio non solo dei trasformatori, ma anche di chi ha la competenza di programmare, denuncia Battista Qualbu, come l'Oilos, l'organismo al quale ci si è affidati per poter meglio programmare e gestire un futuro diverso del comparto, ma che al momento continua a tacere.